arte di cichi ciao bambini ciuff ciuff disegniamo un treno inizia con le rotaie e ora il nostro treno aggiungi anche i fari e i finestrini completiamo il resto del nostro treno è semplicissimo basta seguire aggiungi tutti i finestrini e più dettagli per creare il treno perfetto e ora la parte più divertente coloriamo prima il marrone e ora usiamo un po' di azzurro cielo rosa sul davanti e sul lato questo sarà il treno più bello un po' di giallo per renderlo super divertente e luminoso usiamo l'azzurro cielo anche per tutti i finestrini non dimenticare neanche un finestrino un colore pesca starà benissimo riempiamo rapidamente e infine un tocco di blu il nostro fantastico treno è pronto spero vi siate divertiti iscriviti per vedere altri video arte di chichi grazie a tutti grazie a tutti